Rientriamo qui su RBI Radio e TV, siete all'ascolto del programma di informazione Play, magari anche alla visione del programma di informazione Play e se ci avete ascoltati anche nella scorsa settimana magari vi ricordate di quando mi sono diciamo amareggiato, diciamo arrabbiato nel leggere una sequela di prime pagine come faccio all'apertura di ogni puntata, di notare che diverse testate estere il New York Times, il Guardian e il Paese, e quelli sono giusti o quelli che leggo, e chissà quanti altri avevano messo in prima pagina i risultati di uno studio piuttosto pesante nei suoi risultati rispetto agli effetti del cambiamento climatico sull'Unione, sull'Europa, sul continente europeo e invece questa notizia mancava clamorosamente dalle testate italiane, tra l'altro anche quelle che non leggo avevo controllato Allora vi avevo raccontato di questo studio che parla di ondate di calore mortali in Europa e nel leggere di questa ricerca mi ero accorto che il nome di chi aveva guidato questa ricerca era italiano allora mi sono detto magari riusciamo a chiacchierare con lei e andare un po' più nel dettaglio si parla di una epidemiologa, si chiama Elisa Gallo, le diamo il benvenuto intanto Ciao Elisa, benvenuta qui su Play Grazie, buongiorno a tutti Grazie mille davvero di essere qui con noi particolare, ce lo dicevamo fuori onda, parlare di epidemiologia legata a cambiamento climatico ma perché molto semplicemente la crisi climatica fra le tante cose è anche una grande minaccia per la nostra salute e la nostra sopravvivenza anche e soprattutto in questo caso e allora questo studio che è stato portato avanti dal IS Global, Barcelona Institute for Global Health raccontava sostanzialmente delle tante morti che ogni estate, sempre più ogni estate, si verificano in Europa per via dell'ondate di caldo però mi immagino che sia piuttosto complicato rispetto ad esempio a una morte per una alluvione che è molto facile collegare a insomma grande quantità di pioggia arriva al fiume e vengo portato via molto facile fare 2 più 2 mi immagino sia un po' più complicato collegare un decesso ad un'ondata di calore insomma come si fa a distinguere rispetto ad altre possibili cause Sì esatto, la prima cosa che volevo sottolineare è che molto spesso noi non troviamo caldo, calore come causa del decesso ma troviamo piuttosto la causa fisiologica che ha portato al decesso della persona quindi quando parliamo di mortalità per calore intendiamo una persona che è deceduta e non sarebbe deceduta quel giorno se non fosse stata esposta a quella determinata temperatura quindi avrebbe potuto vivere più a lungo nello specifico noi usiamo dei modelli epidemiologici che ci permettono di stimare qual è di fatto il rischio associato al caldo e qual è la frazione della mortalità totale per tutte le cause che può essere collegata di fatto all'esposizione a temperature estreme chiaro, chiaro, quindi insomma si cerca di fare un po' di tara un altro dubbio che mi sono posto nel leggere questo studio non per mettere in dubbio lo studio chiaramente ma perché si parla di un continente intero quindi insomma anche semplicemente insomma se si dovessero calcolare fare questo lavoro che ci hai appena descritto per un piccolo comune insomma immagino che riesco a rendermi conto della portata del lavoro quando si parla di un continente intero anche qui come si raccolgono questi dati come vengono gestiti questi dati come riuscite ad ottenere tutte queste informazioni? Noi abbiamo utilizzato dei dati che sono pubblici quindi gratis se chiunque li può scaricare dalle piattaforme dell'Unione Europea sia per quanto riguarda i dati di temperatura che per quanto riguarda i dati di mortalità nello specifico i dati di mortalità che sono disponibili sono a livello settimanale per diverse regioni europee queste regioni sono chiamate NAZ3 sono di fatto semplicemente una nomenclatura data a fini statistici e in Italia per esempio corrispondono alle province quindi noi avevamo i dati di mortalità settimanale per ciascuna provincia e anche le temperature di ciascuna provincia chiaramente a scaricare tutti questi dati comporta un enorme lavoro per questo devo ringraziare i nostri tecnici al lavoro che hanno creato un database incredibile contenente più di 96 milioni di decessi a livello europeo tra 2000 e 2023 per cui avevamo dei database enorme e poi chiaramente il resto le analisi e la potenza dei nostri computer insomma che ci ha permesso di gestire tutti questi dati insomma al di là dell'argomento specifico mi viene giusto da fare una considerazione che emerge spesso quando parlo racconto ricerche cioè che da un lato è impossibile fare ricerche di questo tipo senza la tecnologia necessaria ma anche da soli insomma c'è bisogno di una grande squadra quindi noi parliamo con una persona ma a rappresentare un gruppo di... sì 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 ci abbiamo lavorato in molti inevitabilmente mi ringrazio tutti inevitabilmente chiaro chiaro allora abbiamo un po' ruotato intorno abbiamo fatto un po' la premessa di questo studio andiamo a ragionare esattamente di quali sono state le conclusioni che cosa emerge da questo vostro lavoro di ricerca sì i massaggi principali sono due il primo riguarda la mortalità associata al calore in Europa dove abbiamo stimato che nel 2023 più di 47.000 decessi sono attribuibili al calore o il calore ha avuto un ruolo fondamentale nel causare questi decessi nello specifico in Italia sono più di 12.000 i decessi del 2023 dovuti al calore il secondo aspetto che abbiamo voluto analizzare è se c'è stato di fatto un adattamento negli ultimi 20 anni delle società, delle persone per cui in sostanza ciò che abbiamo fatto è stato andare a vedere quale sarebbe stata la mortalità se le temperature del 2023 fossero state registrate all'inizio del 2000 quindi tra 2000 e 2004 considerando le vulnerabilità delle società e delle persone di quel periodo e ciò che abbiamo visto è che se non ci fosse stato un adattamento in questi 20 anni la mortalità avrebbe potuto essere un 80% più alta nella popolazione generale e il doppio o più del doppio nelle persone over sopra gli 80 anni questo da un lato un po' ci rincuora vuol dire che comunque in questi anni qualcosa si è mosso quanto meno sul lato dell'adattamento insomma vorrei soffermarmi un attimo su questa cifra 47.000 se non sbaglio hai detto appunto pensiamo a qualsiasi catastrofe meteorologico a qualsiasi evento meteorologico estremo il più estremo di tutti non si avvicinerà mai a questa cifra probabilmente neanche se li sommiamo tutti insieme per quanto riguarda l'Europa invece l'ondata di calore che viene raccontata molto meno invece miete tutte queste queste vittime non lo dico per l'allarmismo ma insomma appunto per prendere le considerazioni necessarie rispetto all'adattamento però appunto mi sembra di capire che in questo studio si fa notare che si sono stati fatti fatti dei passi avanti però chiaramente si può ancora migliorare e si parla di adattamento perché laddove il cambiamento climatico purtroppo è già iniziato dobbiamo fare il possibile per mitigarlo però purtroppo ci dobbiamo avere a che fare dobbiamo agire in qualche modo sì esatto un adattamento che abbiamo visto negli ultimi vent'anni riguarda miglioramenti a livello di sistema sanitario che ora è più pronto ad affrontare queste ondate di calore il nostro stile di vita è cambiato ci stiamo abituando ad affrontare queste temperature così estreme e ci sono più precauzioni nei confronti dei lavoratori che devono lavorare all'aperto quindi che non hanno modo di fatto di proteggersi non è che possono chiudersi in un ufficio e non essere esposti al caldo ci sono dei sistemi di allerta ora della popolazione che avvisano se sta per arrivare un'ondata di calore e questi sistemi in questo momento sono un po' in fase di come potrei dire li stiamo un po' rivedendo la comunità scientifica sta cercando di creare dei sistemi che siano più efficaci di quelli già esistenti per cui questo è un passo insomma verso il futuro sicuramente è importante per un futuro aumentare gli spazi verdi nelle città perché aiutano a mitigare la temperatura oltre a avere mille benefici anche psicologici per le persone ma proprio aiutano ad eliminare un po' questo effetto isola di calore che si osserva nelle città dove le temperature sono sempre più alte rispetto magari alla campagna che le circonda e sì ci sono tutte queste misure di adattamento che però vanno ad attuare tra virgolette sui sintomi cioè sul caldo ok le temperature crescono noi dobbiamo adattarci però secondo me la cosa fondamentale sulla quale anche dovremmo concentrarci proprio a livello di comunità in generale parlo di chiunque di tutti noi e anche dei politici dei media un po' tutti è sul fatto che dobbiamo agire sulla causa del problema sulla radice del problema che sono le emissioni di gas effetto serra perché è un po' come se una malattia guarda solo i sintomi tampona un po' i sintomi però non si agisce sulla causa su qual è il problema fondamentale perché anche il nostro adattamento avrà un limite e quindi bisogna bisogna andare ad agire sulla causa quindi riducendo gas effetto serra le emissioni quindi investire in energie rinnovabili a utilizzare investire di più sul trasporto pubblico e utilizzarlo di più per cui credo che questo sia anche un po' il messaggio fondamentale sì in questo momento purtroppo siamo un po' costretti o saremmo costretti a percorrere queste due strade contemporaneamente quella dell'adattamento perché appunto come dicevo il cambiamento climatico è iniziato e bisogna adattarsi a quello che abbiamo ottenuto tra molte virgolette fino ad adesso e però ancora di più quindi correre per cercare di limitare le nostre emissioni mi fa piacere che parli del trasporto pubblico perché ho una mia piccola crociata contro l'ossessione per le auto elettriche che certo emettono immensamente meno rispetto all'autocombustione interna ma forse il passo ulteriore ancora più più concreto e lungimirante sarebbe quello proprio di muoverci in maniera diversa al di là del trasporto del trasporto individuale allora insomma questo è un po' riguardo su questa su questa ottima ricerca ottima dal punto di vista del lavoro purtroppo non dal punto di vista delle delle conclusioni realizzata appunto dal Barcelona Institute for Global Health ve ne ho parlato insomma googolandola l'ha trovata un po' ovunque purtroppo appunto la stampa e i medi italiani hanno dedicato poca attenzione e nel nostro piccolo abbiamo provato a puntarci un faro quest'oggi ma intanto grazie mille davvero a Delisa Gallo che l'ha realizzata assieme ad una grande squadra e ce l'ha raccontata quest'oggi grazie mille davvero e alla prossima grazie